Penso che oggi tre punti fondamentali, perché era una partita che nascondeva tante consiglie. È vero che non è stato un gran spettacolo, perché veramente era un po' di adalcanza, che comunque non è una scusante perché era brutto sia per noi che per loro, però non ci permetteva di giocare, di fare il nostro calcio e ci erano un po' sicuramente penalizzati. È importante che abbiamo trovato il gol su una bellissima azione, un gran cross di Vito Francesco e abbiamo chiuso la partita e oggi siamo molto soddisfatti di questo risultato, perché alla fine contava soltanto vincere. L'importante era vincere, per riprendere il cammino della vittoria, perché poi ci aspetta una grande partita con il Paris la settimana prossima, quindi era fondamentale per il morale. Il gol è un pochino arrivato forse nel momento migliore della Gianna, vi stava pressando alta. Vero, vero. Nel momento migliore loro siamo riusciti a far gol, ci siamo un po' tagliato le gambe e fino alla fine ci abbiamo provato, però non è stata una gran bella partita, sia da parte nostra che da parte l'orbe, pochissime occasioni di ruolo, se l'ho trattato a centro campo, a palle sporche. Ripeto, da questa partita dobbiamo prendere il risultato che per noi è fondamentale. Si è tornato a fare il ruolo che hai lavorato molto in ritiro. Sì, all'inizio ho messo un po' a trovare la posizione, però poi mi sono adattato e mi sono adattato un po' meglio. Diciamo che, ripeto, oggi non abbiamo fatto il nostro calcio con palla a terra e trovare gli spazi, però ci stanno, sono partite che fanno parte di un campionato, di un camino, dove dovevamo prendere soltanto il positivo, tre punti sono fondamentali per noi, tutto il quale. Quello che ti ha chiesto l'allenatore l'hai fatto? Cioè l'interno che tu l'hai provato? C'ho provato, sì, se no faccia uscire subito. Sì, sì, no, sono inserito quello che chiedeva, sono riuscito. Perché tu hai anche il gomma? Certo, sì. Aveva anche il suo gomma, che dovrei la faccia. Intanto? La munizione per la era per la risultanza perché ti sei arrampicato. Sì, esatto, sì. Perché ti sei arrampicato. Perché ne sono arrampicato. Perché se toglierla a maglia può avere un senso, ma perché uno si arrampica, lo fa, lo fa a mezzo mondo. Già non lo vedo la mente. Non lo vedo la mente, forse è applicazione, però non lo fanno sempre. No, non lo vedo la mente, ma sulla maglia sì. No, sulla maglia no. Lui mi ha detto sempre qua io. Ciao.